E ora per il chitarrismo folk siamo arrivati a un momento molto divertente. Riassumiamo un pochino i movimenti della mano destra con gli accenti, facendoli tutti in levare, passando gli accordi in levare con l'accordo di do, di fa, di sol, di la minore e di mi minore e otteniamo insieme con Riccardo, che è venuto a trovarci un allievo del CPM che ha cominciato anche lui da zero, da capo, vediamo appunto di fare una ritmica che ci ricorda canzoni come Twist and Shout, come La Bamba. Sentiamo, l'esercizio è il numero 24. Grazie a tutti. E ora nella lezione numero 20 invece riassumiamo un po' i gesti delle pennate che si fanno sulla parte alta e sulla parte bassa della chitarra, quindi dando questo senso di sdoppiamento dell'accordo. Lo facciamo su due giri armonici, quello di do maggiore e quello di sol maggiore che abbiamo appena visto nelle lezioni precedenti. Con noi ancora Riccardo che ci fa compagnia e ce lo suona, ci suona questo giro armonico, questi due giri armonici insieme a noi. Allora, l'esercizio è il numero 25. 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 L'esercizio è il numero 25.